No, 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 no! Vai! Per l'amor di Dio, non farlo! Enid! No! C'è? Colin, tesoro! Perché? L'importante è che tu stia bene, amore mio! Addio! No, Colin, non lasciarmi! Ne pagherai le conseguenze! Corri! Grazie, amore mio! Le mie bombe d'acqua stanno arrivando! Presa! Stanno per esplodere! Oh no! Mi sono fatto male! Questo significa guerra, Enid! Questo significa guerra, mercoledì! Il duello è iniziato! Grande, ragazze! Grande! Ne aiutiamo? Va bene, andiamo! Ops! Uno a zero! Bene, ragazzi! Siete pronti? Non è che abbiamo altra scelta! Un altro punto per Mercoledì! Un altro punto per Enid! Ora andiamo a fare una nuotata! L'acqua è abbastanza calda! Ho paura! Aiuto! Bene, tocca a me! Acqua, per favore! Dove sono i ragazzi quando ne hai più bisogno? Oh! Ragazzi! Cosa? Enid! Colli! I am! Ragazzi, per favore, premete il tasto mi piace per aiutare Enid a rinfrescarsi! Il caldo l'ha fatta impazzire! Grazie, siete i migliori! Oh! Cosa mi succede? Dovresti coprirti la testa quando sei fuori! Dove siamo? È chiaro che non hai la piscina! Ho paura! Come facciamo a uscire da qui? Guarda cos'ha trovato! Guarda chi ci ha trovato! Oh! Enid, guarda! Questo è tutto ciò che è rimasto dei nostri ragazzi! Una paperelli! Quack, quack! Oh! Odio le cose carine! Ai! Ehi, Mercoledì! Guarda cos'ha trovato! So cosa dovremmo fare! Troveremo i nostri fidanzati! Di là! Non voglio morire! È lei! Guarda! È mercoledì! No! Non è lei! Ehi, voi! Qual è il problema? È solo una bambina! Sono una grande fan! Adoro giocare con le bambole! Il fatto è che le vostre ragazze sono una spina nel fianco! Viva di giocare con me! È troppo crudele! Ora siete miei! Piacere di conoscervi, ragazzi! Chiediamo alla guardia! Ehi, scusami! Hai visto i nostri fidanzati? Il mio colino è stupendo! Wow! È bellissimo! Ebbene, è molto timido! Wow! Non hai bisogno di un altro ragazzo! Ti amerò per sempre! Ehi! Li hai visti? Non mi sta ascoltando! Mano! Conosci la procedura! Ai ai ai! Ho capito! Mostratemi di nuovo la foto! Un momento! Ehi! Sono il tuo ragazzo! Guarda! È lui! Vieni! Ti va di uscire? No! Perché sei così cattiva? Ho il cuore spezzato! Guarda! Casa! Manu, vieni con me! Ecco le chiavi! Possiamo andarcene da qui! Non entro! Ehi, Genio! Ecco la via d'uscita! Oh, sì! No, ti prego! Non uscire! La ragazza ti ucciderà! Dove pensi di andare, gondino? Oh, Sharon! È orribile! Ho sistemato le sbarre! Siamo a posto, vero? Sì! È orribile! Cos'è successo qui? Guarda! Il rapinatore ha lasciato un messaggio per noi! I vostri ragazzi sono bei! Ciao! Non volevo spaventarla! Bene! Ora parla! Enid, sveglia! Sono innocente! Cosa volete fare? Ma chi è questo? Ora lo scopriremo! Noli, quella è la mia ragazza! Ti sfido a duello! Ehi, tu! Ragazzina! Ehi! Ehi! Capisco! Hai qualche programma? Ah! Ti tengo d'occhio! Fammi uscire! Qualcuno mi sente! Cos'è questo? Cos'è questo? Basta! La tua performance è finita! Stai zitto! Bye bye! Ho capito chi è! Anche io! Sono io! Ciao! Giuro che non sono un ladro! Ragazzi, che confusione! Un po' di pulizia non guasterebbe! Devo aiutare la mia coppia mercoledì! Oh! Passa montagna! L'aspetta una sorpresa! Allora hai scoperto che è il rapinatore? Non lui! Appena gli metto le mani addosso, non so cosa gli faccio! Ehi! Dov'è Ed? Lascialo andare! Oh! Guarda! Il sentiero delle caramelle! Vediamo dove ci porta! Per favore, aiutatemi ad uscire! La ragazza è un mostro! Vi sofflico! Fatemi uscire di qui! Piavi! Proprio quello che mi serve! Non riesco a raggiungerla! Non funziona! Cosa devo fare? Oh! Parte della telecinesi? Accio scopa! Oh! Stupita mano! Forza! Puoi farcela! Oh sì! Sono un genio! Vado a casa! Tu non vai da nessuna parte! No, no! Ti prego! Non succederà più! Wow! Negozio di caramelle! Torna subito! Oh! Scusa! Hai visto questi ragazzi? Certo che li ho visti! Eccoli! Li vedo ogni giorno! Sono la più grande fan di Troom Troom! Adoro belle! Sono una fan! Questo non mi porterà da nessuna parte! Sono pronta! Cos'hai preso? Solo l'essenziale! Merendite! Ehi, per sicurezza! La polizia è laggiù! Ok! Andiamo! Ma dove vai? Rimetti tutto a posto! No! Per favore! Non voglio fare la fine di Colin! Cosa? Sei adulto e sei così stupido! Ti ha trovato! No! Ti prego! Non farmi del male! Ah! Creduloni! Mi scusi, agente! Ha un minuto? Ci aiuta a trovare i nostri fidanzati? Sono forti, alti e belli! Capito? Così? Non li ho visti! No! Assomigliano di più a questi! Fammi vedere! Non li ho visti! Non posso farci nulla! Chi è quella? Nella foto! Ah! Questa è mia figlia! L'orgoglio e la gioia di papà! Aspetta! Appigliamenti? Capelli? Ci sono! Andiamo, Inid! Eccola! Fermati, nanerottolo! Ti faccio a pezzi! Ragazza, calmati! È solo una bambina! So io cosa fare! Ehi, tu! Ah? Che c'è? Mercoledì, anima mia! Mi salverai! Ehi, nanerottolo! Vieni qui? Sì? Che vuoi? Ah? Non io porrò a lei! È pericolosa! Calmati! Perché dovrai? Perché dirò a tuo padre di te! Per favore, non dire niente a mio papà! Lascerò andare il tuo ragazzo, lo giuro! Sei libero, Ben! Vieni fuori! Ci è voluta una vita! Oh, amore mio! Oh, adorabili! Vero! Dov'è il mio ragazzo? Cos'hai fatto a Colin? Beh, ecco come stanno le cose! Aiuto! Ti prego! Aiutatemi! Sono brutta! Wow! Chi è quello? Nena, tua cugina! Wow! Wow! È l'amore della mia vita! Siamo destinati a stare insieme! Ehi, Barbie! Svegliati! Che non può vedermi così! Che ne dici di questo? Era qui un momento fa! Aspetta! Ecco! Il piano di trasformazione della Barbie dei sogni! Wow! È il mio modello di riferimento! Facciamolo! Cominciamo con il trucco! Oh, sì! Bene, bene, bene! Odio, Barbie! Prima ordine del giorno per oggi! Rovinare la vita di Barbie! E ogni giorno, d'ora in poi! Prima di tutto, puliamo la faccia! Certo! Cosa stai facendo? Va bene così? Dimmelo tu! Cosa? Cioè, non è così che ci si pulisce? No! Solo le bambole fanno così! Ma se sei nel mondo reale, devi fare quello che fanno i veri umani! Wow! Mi sento fresca! Passiamo al trucco! Oh, wow! Questa sì che è una trusse di trucchi degna di Barbie! Ombre! Pennelli! Tavoloso! Wow! Zuma! Fantastico! Farda rosa dalle sfumature morbidi! Ombretto rosa! Sfumature glitterate! E ovviamente, eyeliner alato! Strasse luccicante! Strasse luccicante! E rossetto rosa! Guarda, Omba! Ti piace? Stai benissimo! Oh sì! Chi è? I miei capelli non sono ancora pronti! Vado io! Vado io! Ehi, Ken! Hai dimenticato la borsa! Oh, è così! Ehi, Ken! Ehi, Barbie! Ma dov'è Ken? Che bel cucciolo! Siete la coppia più carina che ci sia! Vi posterò su Instagram! Cosa? Come mai Bratz ha zero visualizzazioni? La stupida Barbie ne ha migliaia! Beh, questo significa guerra! Mi servirà un'arma! Ma... Dovrò il bruglia! È arrivato il pattino per acconciature! Lo adoro! Acconciamoci i capelli, Barbie! Vado ad aprire la porta! Consegna! Una pizza da un ammiratore segreto per voi! Grazie! Oh no! Non mi piacciono i pipistralli! I miei capelli! Possiamo rimediare? Oh, forse no! Ho un'idea! Questi capelli sono una causa persa! Sarebbe più facile tagliarli! Oh oh! No, 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 no! Massima idea! Ops! Forza! Abbiamo bisogno di nuovi capelli! È urgente! Barbie, sto cucendo i capelli più belli che ci siano! Perfetto! Wow! Sono così belli! Questa è un'acconciatura da urlo! Oh! Ho fame! So dove possiamo mangiare! Latte! Che buono! Oh oh! Non mi sento molto bene! Non berlo! C'è qualcosa che non va! Il latte è scaduto! Cosa c'è nell'armadio? Niente! Ho appena avuto un'idea! Eww! Esanduccia! Wow! Sceglieremo un vestito! Wow! Proviamolo! Che ne pensi? Passo! Certo! Il prossimo! Oh wow! Oh! Costumo da bagno! Barbie da spiaggia! Passo! Ok! Barbie romantica? Oh sì! È questa! Sei perfetta! Questa è una vittoria! Andiamo! È un'università! Cos'è questo rumore? Cosa? Dinamite per cavalli? Il mio vestito! È rovinato! C'è puzza di stalla! Respira Barbie! Oh no! Ken! Sta arrivando! E sono ricoperta di cavalli! Barbie? Sì? Anche a te piacciono i cavalli! Io ne vado matto! Ah! È destino che sia così! Cavalchiamo il tremondo! Sono innamorata di te! Sono innamorato di te, Barbie! Cos'è successo? Dove siamo? Non lo so! Ma la nostra casa è laggiù! Oh wow! Casa dolce casa! È diventata piccola! È proprio così! Ci serve una casa più grande! Assolutamente! Questo è lo spazio perfetto per una nuova casa! Hai proprio ragione! E muoviamo tutte le cose in più! Ken! Mi servirebbe una mano! Ora puoi piegare le pietre! Non ce l'avrei fatta senza di te! Quando vuoi! Sposterò l'arbadio! Tolgo la candela! Oh! Il mio abbigliamento non è adatto alla costruzione! Ecco un'idea! La mia macchina da cucire è sempre a disposizione! Cucerò un vestito da cantiere! Che stai facendo? Ho cucito un nuovo vestito! Ma per chi è? Per me è ovvio! Ora lo provo! No! Serve più rosa! Fantastico! Ora basta! Se lo dici tu! Oh sì! Mi piace! Ken! Sono carina! Lo sai! Che ne dici di un vestito per me? Ecco! Provalo! Mi sta appendendo! Mi aiuti a liberare la stanza? Certamente! Ho un'idea! Wow! Un tablet! Esatto! Per prima cosa faremo una foto della stanza! E poi? Rimuoviamo il divano nella foto! E scopare nella vita reale! È il momento dell'armadio! E il guardaroba! Oh wow! Ah sì! Cancelliamo i quadri e la pianta! Posso fare un tentativo? Faccio io! Rimuoverò questo orologio! Ottimo! Sei pronto? Andiamo! Caschi da cantiere! Non vedo l'ora di iniziare! Dobbiamo abbozzare un progetto! Con questa matita! Oh! Una vera magia! La vera magia sta per accadere! Questa è la massa della struttura! Posso fare un disegno? Fai pure! Grazie! Posso costruire qualsiasi cosa! Tutto quello che voglio! Oh sì! Sono un genio delle costruzioni! Ken! Cos'è? Sarebbe meglio se mi dessi la matita! Bene! Farò la struttura da sola! Ancora qualche pezzo! Fatto! Brava matita! Ken! Cosa ne pensi? Wow! Barbie! Sei dalla mia parte! Come vuoi! Ken! Ora tu sei dalla mia parte! Torna nella tua! Ci serve una parete! Quasi finito! Devo solo stringere le viti! Oh cavolo! L'abitatore è a scarico! Ehi! Mi serve una mano? Ah sì! Davvero! Ecco a te! Un martello! Beh! Grazie! Wow! Ken! L'ho costruito io! Sono qui! Non mi sei finito qui! Un gioco da ragazzi! Non c'è nessun muro qui! È finito il materiale! Pace! I miei follower sentono la mia mancanza! Quale colore dovrei scegliere Ken? Che ne pensi? Sono entrambi fantastici! Scegline uno! Ops! Oh no! La mia faccia! Ops! I miei follower saranno così spaventati! Sistemerò le cose! Con quale faccia lo sistemo? Ecco! Non ti muovere! Grazie! Sono tornato! Qual è la tonalità di rosa migliore? Questa andrà benissimo! Ora posso dipingere! Wow! Ha funzionato! È un disastro rosa! Barbie! Chiudi gli occhi! Ho una sorpresa per te! Questo rosa deve essere meno sagro! Fatto! Apri gli occhi! Bello! Mi piace! Ma Ken! La nostra casa non ha il tetto! Hai ragione! Fai qualcosa! Quali tecole ti piacciono? Non c'è molto rosa! Eccolo! Ora abbiamo il colore perfetto! Forte! Facciamo il tetto! Wow! È fantastico! E il tetto è pronto! Che cos'è? So a cosa farne! Sei sicuro? Sì! È perfetto per decorare le pareti! E le finestre! Molto bello! Ha fatto un insegno! Questa stanza è mia! Anche io voglio un'insegna! La casa di Barbie e Ken! Non esiste! Perché? Farò un nuovo cartello per te! Casa di Ken! Grazie! Devo solo cambiare posto! E cambiarmelo! Abbiamo finito la costruzione! Ora servono i mobili! Cerco un paio di letti! Ecco il ragazzo degli consegni! Dovrebbe essere sufficiente! Il tuo ordine? Qualcuno? Una bambola? Beh, i soldi sono belli! Ok! Il mio pacco! È così pesante! Ti aiuto io! Ci siamo quasi! Finalmente! Grazie per l'aiuto! Vediamo che c'è dentro! Un cuscino! Proprio quello che ci vuole! Sei sicura? Certo! Guarda! Il letto è fatto! Wow! Ci provo anch'io! Ha funzionato! La nostra casa è fantastica! Ne vado matto! Grazie, Ken! Questa casa è stata costruita con amore! Oh! Ho un'idea! Riviste con me in copertina! Le trasformerò in poster! Mi sembra un'ottima idea! Ritaglia qui e qui! Bello! Ah, sporcare non va bene! Fatto! È ora di decorare le pareti! Mi piacciono molto i nuovi poster! Alla fine della giornata! Sono sempre super fotogenico! Che è? Guarda quanta spazzatura hai lasciato! Avresti dovuto fare più attenzione! Ken! Dove sei? Odio pulire! Devo nascondermi! Barbie non mi troverà qui! Sono perplessa! Sapete dove si trova Ken? Scrivetelo qui sotto! Beh, raccoglierà la sua spazzatura! Accendo il suono dell'aspirapoltero! Oh, Barbie ha finito di pulire! Sei tornato! Tieni! Questo ti servirà! Tutti i miei abiti migliori sono al loro posto! Barbie? Dove dovrei mettere lo specchio? Ma certo! Sulla parete! Ho bisogno di un'altra finestra! Sarà qui! What? Ken! Ken! Ti darò una lezione! Chi è quello? È solo uno specchio! Non è divertente! C'è bisogno di una tenda qui! Dove metto lo specchio? Sulla cassettiera! Perfetto! Anche i miei trucchi andranno qui! Cosa? Ken ha montato le tende? Ciao! Sembra un buon piano! La scatola ha tutto quello che mi serve! La mia tenda sarà super elegante! E avrò un'altalena! Ken! Che cos'è? Un prato! E un campo da golf! È sempre stato il mio sogno! Posso provare? No! No! Il vestito non va bene! E adesso? Ancora no! Beh, ok! Preferisco bere un tè! E cappiaglio! Una tazza di tè è molto meglio del golf! Un bel tè! Lo voglio anch'io! Questi fiori sono per te! Ok! Così romante! Aspetta un attimo! Dov'è il tè? È una fitta festa del tè! No grazie! Il golf è meglio! Ci stai? Certo! Tocca a te! Bucca in uno! È nostra! Cos'è questo rumore? Nascoltiamoci! Ciao! Wow! Le mie bambole! Incredibile! So cosa ho visto! Vabbè! È sempre divertente giocare con lui! È una mia impressione o la casa delle bambole è cresciuta un po'? Ehm!